Siate perfetti come il Padre vostro! Cristo è risorto! Buona giornata, cari amici! In questo nuovo giorno benediciamo il Signore che fa scendere la Sua parola nella nostra vita. Leggiamo insieme il Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, 43-48. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Avete inteso che fu detto Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli e gli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto solo ai vostri fratelli che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Amen. Carissimi amici, oggi vi dono anche la prima lettura dal Deuteronomio, capitolo 26, 16-19. Mosè parlò al popolo e disse Oggi il Signore, tuo Dio, ti comanda di mettere in pratica queste leggi e queste norme. Osservale e mettile in pratica con tutto il cuore e con tutta l'anima. Tu hai sentito oggi il Signore dichiarare che Egli sarà Dio per te ma solo se tu camminerai per le sue vie e osserverai le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme e ascolterai la sua voce. Il Signore ti ha fatto dichiarare oggi che tu sarai il suo popolo particolare come Egli ti ha detto ma solo se osserverai tutti i suoi comandi. Egli ti metterà per gloria, rinomanza e splendore sopra tutte le nazioni che ha fatto e tu sarai un popolo consacrato al Signore tuo Dio come Egli ha promesso. Amen. Carissimi, oggi il Signore ci chiama attraverso il Vangelo e il libro del Deuteronomio nell'Antico Testamento, nella Bibbia a camminare e ad imitare il Padre Celeste il nostro Padre. Giorno dopo giorno stiamo ascoltando un Gesù Maestro che insegna a noi che siamo Suoi discepoli, Suoi allievi questa scuola la scuola della fede cristiana e la scuola del cristianesimo è una scuola di agape è una scuola di amore una scuola di condivisione una scuola di preghiera una scuola di comunione Gesù anche oggi riprende il tema che stiamo vivendo sia a livello sociale europeo quello della guerra quindi quello dell'amarsi del perdono e della pace e dall'altro aspetto Gesù ci sta indicando la via la soluzione. Oggi ha proprio detto queste parole che sempre quando le ascoltiamo entrano in un modo davvero diretto al nostro cuore diretto verso i nostri sentimenti quando ci dice amate i vostri nemici quando Gesù ci dice pregate per quelli che vi perseguitano vi voglio raccontare una brevissima testimonianza che mi è accaduta come parroco qualche tempo fa sono andato a fare una messa in una delle mie parrocchie e parlando con un parrocchiano c'è stato il tema del perdono dell'amare preso anche dall'omelia che avevo fatto e questo parrocchiano mi ha detto eh padre Luca però con mia moglie e i vicini a amare tutto questo amore non è facile per noi cristiani anzi e io ho detto sì ma guarda che Gesù che è il volto del padre lui ci ha dimostrato come fare è morto sulla croce però ha dato la vita per noi e lui mi dice sì padre però lui era Dio e io sono un uomo ecco che la risposta non è che mi ha spiazzato però in realtà è la risposta che tutti noi facciamo sempre Dio ci ha chiesto di amare di perdonare ci ha dato l'esempio e noi spesso ci giustifichiamo dicendo sì tu ci hai amato tu sei morto per noi sulla croce ma eri Dio eri forte e noi invece siamo uomini e sbagliamo oggi il Signore Gesù ci ha detto siate perfetti come è perfetto il padre vostro che è nei cieli ecco che ci indica una via e Gesù stesso pensate che meraviglia lui è l'immagine lo specchio di Dio padre colui che mai abbiamo visto ma in Gesù noi lo abbiamo veduto ho detto anche i suoi discepoli chi ha visto me ha visto il padre le parole che Gesù ha dette le ha dette il padre per noi i suoi gesti sono quelli suoi un amore che non passa un amore che non indietreggia mai tutto sopporta tutto spera tutto crede leggiamo la prima lettera ai Corinzi al capitolo 13 parla dell'agape questo amore divino che è stato infuso in noi dal battesimo e noi non ce ne rendiamo conto e non abbiamo coscienza ecco perché dobbiamo invocare quotidianamente lo Spirito Santo perché in noi si risvegli questo agape che non è dono tuo come caratteristica che non è dono mio come mio carattere ma è lo Spirito Santo che l'ha infuso in noi dentro di noi e quando noi preghiamo e lo invochiamo amiamo e siamo perfetti come il padre questa è la via fratelli e sorelle quante volte ho sentito dire quante volte ho parlato con le persone con le famiglie con gli amici con persone che avevano difficoltà di amare di accogliere e sempre si dice io arrivo fino a questo punto io già ho perdonato già ho fatto dei passi basta basta non ce la faccio più non sono un santo questa è sempre la solita frase che esce ma in realtà nessuno è santo Dio è santo è lo Spirito che è stato infuso in noi amèn quindi la buona notizia è che se da soli non ce la facciamo con lo Spirito Santo tutto possiamo soprattutto possiamo amare possiamo perdonare benedire chi ci fa del male ecco perché il Deuteronomio ci ha spinto a osservare con tutto il cuore con tutta l'anima i suoi comandamenti ascoltare la voce di Dio e oggi questa è la voce invocami e io ti risponderò invoca lo Spirito Santo e avrai il cuore di Dio un cuore perfetto perché ama non con il tuo amore con i tuoi affetti ma ami con il cuore di Dio e allora vi invito adesso a pregare e invocare insieme lo Spirito Santo vieni Spirito Santo oggi nella nostra vita noi abbiamo bisogno di te riconosciamo che da soli siamo incapaci di amare autenticamente incapaci di perdonare di agire bene poniamo di fronte a te oh Signore le nostre resistenze le nostre difficoltà i nostri dubbi la nostra sclerocardia questo cuore indurito incapace di compiere il primo passo fare dei gesti Spirito Santo vieni sciogli il nostro cuore indurito vieni Spirito Santo noi ti invochiamo oggi vogliamo essere perfetti come il Padre e crediamo che se Gesù ce lo ha detto allora è possibile io voglio vivere da cristiano che ama che ama senza riserve senza limiti donami oggi di mettere in pratica la tua parola a te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli cari amici ecco lo slogan che dobbiamo fissare oggi nella nostra giornata siate perfetti come il Padre vostro ecco la via la via dell'invocazione allo Spirito Santo per amare come il Padre essere perfetti come Lui questo è possibile per chi prega e per chi crede in Gesù Cristo grazie che mi avete accolto un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della coinonia Giovanni Battista Oasi di Piella ci vediamo domani ciao il Signore è mia luce e mia salvezza il Signore è mia luce e mia salvezza il Signore è mia luce e mia salvezza di chi avrò timore il Signore il Signore è difesa della mia vita di chi avrò paura il Signore è mia luce e mia salvezza ascolta Signore la mia voce io grido abbi pietà di me rispondimi il mio cuore ripete il tuo invito grazie a tutti